Viviamo di aria, viviamo nell'aria, quella miscela di gas che costituisce l'atmosfera terrestre. Ci troviamo in cima al mondo, sopra Radio Monte Carlo, 105 Virgin Radio, il Tempio del Suono. Ed è da qui che si propaga il suono e la musica, si propaga nell'aria. Il suono e la musica, i creatori della vita su questo pianeta. Aria, aria, il suono si diffonde nell'aria. Il suono è un elemento creativo, da sempre utilizzato dalle civiltà antiche come creatore della vita sulla terra. Basti pensare alla Bibbia e al verbo che crea la luce e il buio che divide le acque dalla terra. Oppure al dio egizio Thoth che dava vita alle cose attraverso il suono. Il suono è un elemento fondamentale, è creatore. Quando parliamo, noi creiamo. L'aria non la tocchiamo, sembra innocua, eppure ha un forte potere distruttivo. Basti pensare alla cantante lirica, che con un acuto è in grado di mandare in frantumi un bicchiere a distanza da lei. Questo perché emette delle frequenze che entrano in risonanza con il vetro, distruggendolo. Basti pensare anche all'episodio della Bibbia, in cui le mura di Gerico sono state distrutte da delle trombe. Ma l'aria, il suono che si estende nella nostra aria, può avere anche un effetto curativo. Ci sono infatti dei medici in grado di curare attraverso le frequenze, perché così come il bicchiere ha una sua frequenza, anche i nostri organi, i tessuti, le nostre ossa hanno delle frequenze. E se entrano in una risonanza perfetta, possono essere guariti. Nello spazio non c'è aria, forse nei pianeti possiamo trovarla, ma ne abbiamo tantissima qui sulla Terra. Perché è nell'aria che c'è l'ossigeno, è nell'aria che c'è il suono, è nell'aria che esiste la vita.